Allora, adesso facciamo un po' di esercizi, cominciamo per esempio a descrivere una superficie sferica, ma io ho una superficie sferica di raggio R. Allora, dicendo l'origine, se la scrivete in equazioni cartesiane è un'equazione soltanto, x quadro più y quadro più z quadro uguale per 4. Se invece la volete parallelizzare, allora, concetto fondamentale, ogni equazione vi fa scendere di 1 la dimensione, tendenzialmente, poi ci sono eccezioni. Per esempio, se qua fosse 0 invece che un numero positivo, scendiamo a un punto che la dimensione è 0, però se invece è un numero positivo qua scendiamo a una superficie sferica. Quindi questo qua sarà un oggetto di dimensione 2, cioè il sostegno di una porzione di superficie regolare. Se la vogliamo invece parametrizzare dobbiamo usare due parametri. Infatti per identificare un punto sulla superficie terrestre, per esempio, voi di che cosa avete bisogno? Avete bisogno di due coordinate, la longitudine e la latitudine. Allora se, quali sono? Allora se chiamo quest'angolo qui teta, 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 beh, non è la latitudine perché la latitudine va da più 90, da più pi greco mezzi, invece teta va da meno pi greco mezzi, invece teta va da 0 a pi greco, però praticamente teta è l'opposto della latitudine più pi greco mezzi. Chi è la coordinata z? Z è uguale a rho per coseno di teta, che se io ingrandisco qua, il nostro punto, se questo è teta, qualunque sia la latitudine, scusate, la longitudine sulla superficie terrestre, sulla superficie della sfera, la sfera, l'altezza, cioè la coordinata z è data da R per coseno di quest'angolo. Invece come sono fatte Y e X? Bene, R se il teta, R se il teta, e poi però qua ci manca un pezzo, questo dobbiamo vedere qual è, perché quando io proietto sul piano XY, diciamo la proiezione, diciamo le coordinate X e Y dipenderanno ulteriormente, adesso guardo dall'alto, allora diciamo se qui ho X, qui ho Y, e qui avrò, questo è R se il teta, questo, e poi qui avrò un altro angolo che si chiama Phi, che è la longitudine, perché a seconda, per esempio, se questo è l'asse X, X, questa è l'asse Y, allora quest'angolo qui è l'angolo della longitudine, allora quindi la X è uguale a R se il teta per coseno di Phi e Y è uguale a R se il teta per il seno di Phi, R se il teta per il coseno di Phi, R se il teta per il seno di Phi. Allora come si fa a controllare di aver fatto bene? Se abbiamo fatto bene, la nostra parametrizzazione, innanzitutto, diciamo la X, la Y e la Z devono rispettare questa equazione qui, infatti se andiamo a fare X quadro più Y quadro, questo fa R quadro, se in quadro teta, perché cos quadro Phi più S quadro Phi fa uno, e a questo punto se faccio X quadro più Y quadro più R quadro, questo fa R quadro, e quindi, come vedete, la nostra equazione è rispettata. Quindi questa parametrizzazione va bene. Naturalmente però, tra dove varia R fis, se faccio variare pure R, non ottengo una parametrizzazione della superficie sferica, ma ottengo una parametrizzazione tridimensionale, per esempio se faccio variare, che ne so, R tra 0 ed R0, allora otterrò una parametrizzazione del solito, di trasferlo. Invece, se faccio, tengo fisso R e faccio variare teta e Phi, ottengo la parametrizzazione della superficie sferica. Attenzione però, dove variano teta e Phi? Allora, di greco, Phi invece varia tra 0 e 2 di greco. Ok? E qua il motivo. Teta, che è quest'angolo, l'angolo formato, questo è l'asse Z, è l'angolo formato tra l'asse Z e il raggio vettore che mi collega l'origine al punto che volevo identificare sulla superficie sferica, quindi teta e quest'angolo qua, vabbè la figura è fatta da una solita un po' male, e chiaramente quest'angolo può andare da 0 quando questo è verticale verso l'alto, a pi greco quando questo punta verso il polo sud, ma più di pi greco non può fare. Mentre invece, teta, scusate, Phi, è un angolo che c'è, diciamo, ho, scusate qua la proiezione è fatta male perché giustamente questo non va a finire sull'equatore, va a finire un po' più dentro, va a finire su un cerchio più piccolo, che chiaramente se andasse a finire sull'equatore vorrebbe dire che coseno di teta è uguale a 1, saremmo a, ok, va a finire su una circonferenza un po' più piccola, di raggio a R seno di teta, qua è fatta bene la figura, e poi Phi, che la longitudine è invece compresa tra 0 e 360 gradi, cioè tra 0 e 2 pi greco in ragione. Infatti, anche quando misurate, ad esempio, sulla superficie terrestre, voi, la latitudine va da 90 gradi nord a 90 gradi sud, e quindi ha un range di 180 gradi, di greco. La longitudine invece va da 180 gradi ovest a 180 gradi est, quindi il range è di 360 gradi. Io misuro la longitudine rispetto al meridiano di Greenwich, e quindi, diciamo, un giro completo fa 30 gradi est, mentre invece la latitudine fa mezzo giro, diciamo, l'angolo 90 gradi nord è quanto punta verso nord e 90 gradi sud quando punta verso nord. Quindi questa è la parametrizzazione della mia su questi trasferdi. Andiamo a vedere chi è lo jacobbiano di Phi. Allora, devo fare, scusate, lo jacobbiano, la parametrizzazione, chiamiamola Psi, perché Teta e Phi abbiamo già usati come nomi per gli angoli. Quindi Teta e Phi sono i nostri U e V. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo derivare, fare i vettori derivati di queste coordinate rispetto a Phi che rispetto a Teta. Allora, quando derivo rispetto a Phi, qua mi viene... Allora, una R mi viene in evidenza sempre, perché c'è da tutte le parti, quindi la metto in evidenza. Poi, quando derivo rispetto a Phi, qua mi viene meno sen Teta sen Phi, poi mi viene sen Teta cos Phi e poi mi viene 0. Ok? Perché la regata di cos Teta rispetto a Phi fa 0. Deriviamo invece rispetto a Teta, poi viene cos Teta cos Phi, poi viene sen Teta cos Phi, sto derivando rispetto a Phi. No, prima ho derivato rispetto a Phi, quindi adesso sto derivando rispetto a Teta. Quindi, cos Teta sen Phi, meno sen Teta. Ok. Ok. Allora, ricordatevi che Teta, nella parte interna, Teta è maggiore di 0, meno di Pi. Allora, cosa avete? Avete che questo vettore, allora sen Teta è diverso da 0. Poi, questo vettore non è nullo perché sen quadro Phi più sen quadro Phi fa 1, e sen Teta è diverso da 0. Quindi, cosa scoprite? Che questo vettore non è nullo, però ha quadro a 0. E che questo altro vettore qui ha un numero diverso da 0. Quindi, due vettori sono linearmente indipendenti, perché sono entrambi non nulli e il secondo non è proprio gianto. Ok? Quindi, questo che cosa ci dice? Che questa è una porzione di superficie regolare. Quello che accade per Teta uguale a 0, per Teta uguale a Phi, non ci interessa, perché, cioè, praticamente, che succede? Che quando Teta è uguale a 0, o quando Teta è uguale a Phi greco, cioè, noi che cosa stiamo facendo? Mettiamo Teta Phi, mettiamolo così, questo va da 0 a Phi greco, questo va da 0 a 2 a Phi greco, praticamente, tutto quest'angolo qua, tutto questo lato qua e tutto questo lato qua vanno a finire, questo lato qua va a finire sul polo 9, questo lato qua va a finire sul polo su, e questi due lato qua vanno a finire sul meridiano di Grinch. Quindi, diciamo, sulla frontiera di questo insieme, l'applicazione non è iniettiva, ma come ne fa, perché fa collassare dei lati in un punto, e altri due lati, va bene, si vanno a, diciamo, sovrapporre come immagine su media. Ok, però, questo abbiamo detto non ci interessa, fin quando funziona tutto all'interno, abbiamo detto che comunque è una porzione di superficie regolare, la nostra parametrazione è di classe C1, quindi non ci sono problemi. Adesso, quindi, cosa dobbiamo fare per calcolare l'aria? Per calcolare l'aria, dobbiamo andare a fare l'integrale tra 0 e Phi greco in Dθ, l'integrale tra 0 e 2 Phi greco in Dθ, di una certa radice. Adesso, che cosa devo fare? Quando vado a scrivere, quella che avevo scritto, in questo caso, Ψθ esterno Ψφ, in norma, non è altro che la radice di L4, che M4, che M4. Ci sono questi quadrati? sono i quadrati dei... Allora, questa è una matrice 3x2, a 3 minori 2x2. Allora, se vi ricordate, le componenti del vettore prodotto esterno sono i determinanti di questi minori 2x2. Allora, come si fa la norma di un vettore? Si fa la radice delle componenti al quadrato. Quindi, bisogna fare esattamente la radice quadrata dei determinanti al quadrato dei 3 minori 2x2. Allora, in particolare qua, per esempio, cominciamo a fare il primo minore, questo qua. Allora, qua mi viene meno senθ cosθ, questo è la senφ, meno senθ cosθ sen4φ, meno senθ cosθ cos4φ. Quando vado a fare la differenza, mi viene meno senθ cosθ. Vado a fare il quadrato, mi viene sen quadro θ cos quadro θ più, poi devo fare questo qua, viene meno sen quadro θ, allora, viene più seno alla quarta di θ sen4φ, più, perché qua viene sen quadro θ senφ, più 0. Poi l'altro qua mi viene sen quadro θ cosφ, più 0, quindi qua mi viene più sen quadro, seno alla quarta di θ, cos quadro φ. Tutto sotto radice, quindi alla fine cosa viene? Viene integrale tra 0, pi greco in dθ, dell'integrale tra 0 e 2π in dθ, adesso quando vado a fare la somma, qua mi viene sen quadro φ più cos quadro φ, fa 1, quindi qua mi viene seno alla quarta di θ, metto in evidenza sen quadro θ, sen quadro θ, perché cos quadro θ più sen quadro θ, fa 1, quindi qua mi viene la radice di sen quadro θ, in dθ, Ok, ora questa quantità fa seno di θ, che se vi ricordate tra 0 e pi greco, il seno di θ è positivo, quindi la radice di sen quadro θ fa seno di θ, quindi seno di θ rispetto a φ è costante, quindi qua mi viene semplicemente 2π, per l'integrale tra 0 e pi greco di seno di θ, in dθ, ma l'integrale tra 0 e pi greco di seno di θ fa 2, perché una primitiva è meno coseno di θ, ma l'integrale tra pi greco di seno di θ fa 2, 2 per 2π fa 4π. Ho 4π, cosa avevo dimenticato? r² da tutte le parti, perché r² da tutte le parti? Perché qua c'era una r, ma siccome i minori sono 2 per 2, la r in evidenza quando vado a fare il determinante, conta due volte perché si sa tutto e due le parti, quindi mi da un r², quindi quando vado a calcolare la mia area, mi viene 4π r², che è il risultato corretto perché l'area della superficie sferica è esattamente quattro volte l'area del cerchio massimo. Ok? Quindi funziona. Adesso andiamo a vedere una parametrizzazione un po' più semplice. Poi ritorniamo su questo discorso della sfera. Allora, la sfera, avevamo calcolato il volume, no? Il volume qual era? Era 4 terzi pi greco r². Quindi c'è l'area della superficie è 4π r². Andiamo a vedere invece il volume e l'area della superficie di un cono. Un cono circolare re. Adesso siccome questa descrizione non è qua diciamo il raggio di base lo chiamo r r piccolo e l'altezza la chiamo h. Siccome questa descrizione di questo cono non è particolarmente complicata vi faccio sia la descrizione dell'insieme del cono sia la parametrizzazione della superficie. Allora, cominciamo a fare la descrizione dell'incono. Allora, il cono è ottenuto collegando il vertice che è il punto 00h, v è il punto e andiamo v00h diciamo sono tutti i punti che diciamo il cono è l'unione dei segmenti che si ottengono collegando il vertice e ci dà uno dei punti che stanno nel cerchio di base. Allora, nel cerchio se io taglio a un livello come lo vogliamo chiamare all'altezza 0 a 0 all'altezza 0 a 0 quando seziono con un piano parallelo al piano della base otterrò anche lì un cerchio. Allora, qual è l'equazione diciamo quando z è uguale a 0 se z è uguale a 0 se io seziono a livello 0 l'equazione è x quadro più y quadro minore o uguale a r quadro. Se io invece seziono a livello z questa è la sezione diciamo base cerchio di base se invece seziono a livello z a 0 quindi avrò z uguale 0 a 0 adesso devo capire questo cerchio che raggio ha c'è sempre centro l'origine la 0 fa z a 0 è più alto il centro però sta sull'asse cioè ha la x uguale a 0 e la 0 uguale a 0 bisogna capire che raggio ha per capire che raggio ha basta fare la sequente similitudine qua stiamo a 0 e il raggio è R qua stiamo ad h e il raggio è 0 qua stiamo a z a 0 allora quant'è il raggio allora questa altezza è z a 0 questa altezza è h meno z a 0 ok ma h meno z a 0 sta ad h perché la lunghezza quindi h meno z a 0 fratto h come questo raggio lo chiamiamo Rho Rho sta a R quindi Rho non è altro che R per 1 meno z a 0 diviso a vedete che funziona perché quando z a 0 uguale a 0 mi viene R quando z a 0 uguale ad h mi viene 0 e qual è allora la mia equazione la mia equazione è x quadro più y quadro minore uguale di Rho quadro ma andando a sostituire chi è Rho quadro io ottengo l'equazione la disequazione scusate x quadro più y quadro minore uguale di Rho quadro scusate minore uguale di Rho quadro per 1 meno z su h a quadro e poi z che varia tra 0 e h perché se questo invece di chiamarlo z a 0 lo faccio variare lo chiamo z e lo faccio variare tra 0 e h ottengo l'unione di tutti questi cerchi che mi fanno il mio cono quindi vedete che come cono come cono questo qua è dato da tre disequazioni z compreso tra 0 e a sono due disequazioni e la terza equazione mi dice che x quadro più y quadro deve essere compreso tra deve essere minore uguale di ok ok adesso se io voglio fare il volume cosa devo fare questo è il cono lo chiamo c devo fare la misura tridimensionale di c devo fare l'integrale su c di 1 in dx di y di z questo è il volume del cono allora per fare il volume del cono però qual è la formula di riduzione che più mi conviene usare mi conviene usare una formula di riduzione sezione quella esattamente che si ottiene sezione da un certo livello z a 0 perché io se seziono a livello z quindi devo fare l'integrale tra 0 e h in dz perché z varia tra 0 e h ma se seziono a livello z chi è questo chi è la sezione la sezione è questa ma questo qua che cos'è il cerchio di centro nel piano xy di centro origine di raggio r questo qua e quant'è che vale la sua misura due dimensionale quindi devo fare la misura due dimensionale di c z dove c z è la sezione a livello z quindi questo già l'avevamo fatto questo esercizio se vi ricordate devo fare l'integrale tra 0 e h di pi greco volte per r quadro per 1 meno z su h al quadrato in dz uguale uguale pi greco di greco r quadro adesso z su h lo chiamo t allora quindi avrò l'integrale tra quando z 1 meno z su h lo chiamo t quindi qua mi viene l'integrale tra 1 e 0 poi dz viene t uguale 1 meno z su h quindi dt chi è? è meno dz su h quindi quindi qua mi viene dz uguale meno h dt quindi qua mi viene il meno pi greco r quadro h dt e qua mi viene t4 allora il meno mi serve a riportare a posto l'integrale quindi qua mi viene pi greco r quadro h l'integrale tra 0 e 1 di t4 fa un terzo quindi fa terzo quindi come vedete il volume viene esattamente un terzo dell'area di base per l'altezza ok adesso vediamo un po' se la stessa diciamo descrizione ci può essere utile pure per ricavare l'area della superficie del compo allora per ricavare l'area della superficie del cono io devo attenzione come si fa a trasformare questa descrizione del cono nella parametrizzazione della superficie del cono stesso attenzione che la superficie del cono è fatta da due pezzi una è l'area di base e l'altra è l'area della superficie laterale e l'altra superficie laterale allora la superficie di come si fa allora si trasforma una delle disequazioni in equazioni allora quando tu trasformi una delle disequazioni in equazioni stai prendendo un pezzo di superficie se metto z uguale a h non mi interessa perché sto praticamente descrivendo soltanto il vertice il vertice non ha l'area che è un punto invece una possibilità è mettere z uguale a 0 z uguale a 0 e poi mettere x quadro più y quadro minore o uguale di r quadro questa è la superficie di base come vedete però non è ancora una parametrizzazione perché le tre coordinate una ce l'ho che vale 0 le altre due mi vengono date da una disequazione allora come si fanno a parametrizzare o me la cavo dicendo questo è il cerchio dicendo l'origine di raggio r e già so che ha area pi greco r quadro oppure posso effettivamente parametrizzarlo qual è la parametrizzazione? 0 uguale a 0 x uguale ρ cos theta y uguale ρ sin theta allora θ varia tra 0 e 2 pi greco e ρ varia tra 0 ed r come vedete questa è la parametrizzazione della base perché la parametrizzazione della base vedete che ci sono due coordinate una è θ che spazza diciamo e l'altra è ρ ρ spazza il raggio e θ fa girare il raggio vettore spazzando tutto il cerchio di raggio r ok? ok se adesso andiamo a fare la nostra l'area di base come si farà sono esercizi banali ma vale la pena di farli perché se uno deve saperle fare queste descrizioni allora io che cosa devo fare? devo fare lo jacobiano devo derivare rispetto a ρ rispetto a tene allora innanzitutto qua 0,0 poi ρ e θ se derivo rispetto a ρ viene cos θ sen θ se derivo rispetto a θ viene meno ρ sen θ ρ cos θ ora fate attenzione che nonostante qui ci sia 0 e 0 questi due vettori sono effettivamente linealmente indipendenti perché? perché innanzitutto questo vettore non è mai nullo ρ lo prendiamo maggiore di 0 perché diciamo ρ vale tra 0 e r ci interessa nella parte interna quindi maggiore di 0 meno di r e come vedete questi due vettori in r2 sono ortogonali questo è un versore e questo è il versore ortogonale adesso se vado a fare quindi cosa devo fare? devo fare l'integrale tra 0 ed r inter ρ dell'integrale tra 0 e 2π in dθ della radice quadrata di chi? e qua devo fare i tre determinanti a somma dei determinanti a quadrato però due determinanti fanno 0 perché hanno una riga nulla l'unico che non fa 0 è questo ρ cos quadro più ρ sem quadro ρ cos quadro più ρ sem quadro fa ρ quindi devo fare la radice di ρ quadro quindi come vedete qua mi viene ρ quindi mi viene 2π per l'integrale tra 0 e r di ρ inter ρ ma l'integrale tra 0 e r fa r quadro mezzi e quindi qua mi viene π r quadro che come vedete è esattamente l'area del cerchio di base fate attenzione che qui non ho non ho cambiato coordinate in coordinate volare non è un integrale doppio questo l'ho rifatto come integrale di superficie perché questo qui l'ho parametizzato come superficie perché l'ho visto in R3 l'ho parametizzato come superficie ho riadottato quest'altra definizione come area di superficie abbiamo fatto il code e abbiamo rivisto che l'area del cerchio di piaggio r è rivenuta un'altra volta quello che doveva essere c'è il π greco r4 è chiaro? prima l'avevamo calcolata come il cerchio l'avevamo visto come contenuto in R2 e l'avevamo fatto come integrale di volume calcolando la misura due dimensionale cioè l'area e qua l'abbiamo visto come in area di una superficie di un cerchio messo dentro R3 ma siccome il cerchio è lo stesso l'area della superficie deve essere la stessa e quindi infatti è venuto questa è l'area di base adesso come faccio a trovare invece l'area della superficie laterale se voglio trovare l'area della superficie laterale devo anche qui andare a parametizzare la superficie laterale e come si fa a parametizzare la superficie laterale beh qui le possibili disuguaglianze che potrebbero diventare uguaglianze erano tre una era 0 uguale a 0 che è quella che mi ha dato la base una era 0 uguale a h che è quella che mi ha dato il cerchio di base e l'altra è questa che può diventare un'uguaglianza quindi qua mi viene x quadro più y quadro uguale r quadro per 1 meno z su h a quadrato e poi z invece continua a essere compreso tra 0 e a però questa qua non è ancora una parametizzazione perché mi viene questa qua è data in forma cartesiana io ho un'equazione che mi dà una superficie che poi taglia a livello se io scrivo questa questa chi è? questa è la superficie conica è una specie di doppio cono indefinito che passa per questo vertice qua se io non mettessi tra 0 ed h otterrei una superficie conica illimitata tagliando da livello 0 a livello h ottengo la superficie del mio cono però se la voglio parametrizzare come devo scrivere? ma questo è semplice perché basta scrivere x allora scrivo z uguale z cioè z me lo tengo come banale e poi basta scrivere x uguale r per 1 meno z su h per coseno di fi che ne so è y uguale r per 1 meno z su h per seno di fi dove naturalmente z varia tra 0 ed h e fi varia tra 0 e 2p credito cancelliamo quella di base che non c'è più quindi stavolta come vedete a parte r ed h che sono delle costanti i miei due parametri di parametrizzazione sono fi che varia tra z e di greco e invece z che varia tra z chiaro? cioè a seconda del livello z questa che cos'è? questa è una parametrizzazione di una circonferenza circonferenza infatti la sezione mentre la sezione del conno era un cerchio la sezione della superficie laterale è una circonferenza che ha esattamente questo raggio allora z mi dice il raggio della circonferenza perché tramite questo r per 1 meno z su h e fi mi gira attorno a tutta la circonferenza quando fi varia tra z e torti greco io descrivo tutta la circonferenza allora cosa devo fare? come al solito devo andare a fare lo iacobiano di psi questa è la mia parametrizzazione di iacobiano psi cioè devo derivare queste quantità sia rispetto a z sia rispetto a fi allora se derivo rispetto a z mi fa meno 1 su h cos fi e derivo a z meno r su h cos fi poi meno r su h sen fi e poi 1 quando derivo rispetto a z e 1 poi devo fare la derivata rispetto a fi quindi qua mi viene meno r per 1 meno z su h sen fi poi meno più r per 1 meno z su h cos fi e poi e poi e poi questo era 1 e questo è 0 queste sono le e lo iacobiano ora vedete che quando z è estrettamente compreso da 0 e h questo numero è diverso da 0 n è diverso da 0 sen fi cos fi è un versore quindi questo vettore non è nullo questo vettore non è nullo ma qua c'è 0 questo vettore qua c'è 1 quindi i due vettori sono indipendenti quindi effettivamente questa è una porzione di superficie adesso che devo fare per calcolare l'area della superficie laterale cancelliamo e andiamo a calcolare l'area della superficie laterale andiamo a fare integrale tra 0 e 2 pi greco in definito nell'integrale tra 0 e h in dz che comunque è un rettangolo poi ci devo mettere la radice di allora quello che devo mettere sotto radice cominciamo a calcolare chi sono L, M e N allora L R quadro allora qua mi viene questo per questo per cos quadro fi col meno poi qua mi viene lo stesso numero per se quadro fi ma sempre col meno quindi mi viene meno cos quadro più se quadro fa 1 qua mi viene R quadro per 1 su h per 1 meno z su h questa è R per seno di fi e qua mi viene 0 e allora mi viene più questo qui quindi mi viene R per 1 meno z su h per seno di fi e qua mi viene e qua mi viene 0 meno R e N viene meno R 1 meno 0 su h cos più adesso andiamo a vedere chi è qua sotto scriviamo quanto fa L quadro più M quadro più M quadro allora il primo fa R alla quarta fratto h quadro per 1 meno z su h al quadrato il secondo fa più R quadro per 1 meno z su h al quadrato per se quadro fi e il terzo fa la stessa cosa per cos quadro fi li metto insieme e fanno se quadro fi più cos quadro fi fa 1 e mi viene questa roba quindi qua cosa mi viene mi viene posso mettere in evidenza 1 meno z su h al quadrato e qua mi viene posso mettere in evidenza anche un R quadro e qua mi rimane R quadro su h quadro più 1 quindi qui quando vado a fare la radice di L quadro più M quadro più N quadro mi viene R per 1 meno z su h per la radice di 1 più R quadro su h quadro in dz in quindi interfi allora come vedete questa quantità non dipende da fi quindi l'integrale interfi mi dà un semplice 2 pi greco poi c'è un R che va fuori poi c'è una radice di 1 più R quadro su h quadro che pure va fuori e cosa mi rimane? mi rimane l'integrale tra 0 ed h di 1 meno z su h in dc ok è chiaro no? qui mi viene questo e questo non dipendono da niente quindi quando li metto sotto la radice escono fuori un R e questo poi ci sta l'integrale tra 0 e 2 pi greco che fa 2 pi greco e poi ci rimane da farsi l'integrale qua ora quest'integrale qua è il solito scriviamolo qua 2 pi greco R radice di 1 più R quadro su h quadro allora come al solito pongo 1 meno z su h lo chiamo t lo scrivo qua sotto t uguale 1 meno z su h allora quando z vale tra 0 ed h questo divende l'integrale tra 1 e 0 d z uguale a meno h dt quindi qua ci viene un meno davanti al tutto e qua ci viene t dt e c'è un h però allora l'integrale meno riporta l'integrale a posto l'integrale tra z 1 dt fa t quadro mezzi tra 1 e 0 fa 1 mezzo quindi qua mi viene pi greco R poi l'ultima cosa che mi rimane da fare è riportare l'h sotto il segno sotto la radice quindi qua mi viene radice di h quadro più r quadro questa è l'area della superficie laterale se vi ricordate questa l'avete fatto se la vostra maestra era brava l'avete fatta alla scuola alimentare l'area della superficie laterale del cono è data dal perimetro di base cioè 2 pi greco R questa è la metà semiperimetro di base per l'apotema per l'apotema di sotto l'apotema è la lunghezza di questa diagona diciamo di questo cateto qua dove questo R questo è H e quindi questo qua è esattamente lungo radice di H quadro più R quadro e quindi vedere che funziona ok abbiamo come dire riscoperto un modo apparentemente più complicato però alla fine dai risultati che sono giusti poi non è così complicato perché perché è vero che è più complicato del oh vi accetto no è vero che è un po' più complicato diciamo di quello che facevamo alle elementari ma noi abbiamo la piena descrizione del solido quindi possiamo descrivere il solido parametrizzare la superficie parametrizzare la superficie di base parametrizzare la superficie laterale cioè è un metodo completo anzi vedremo adesso diciamo dopo la pausa adesso facciamo pausa una decina di minuti poi dopo la pausa vediamo anche i direni di di guldino che collegano alcune diciamo i volumi e le superfici dei soliti di rotazione questi due soliti hanno soliti di rotazione ok poi facciamo delle osservazioni su quelli che sono i cilindri quelli che sono i soliti di rotazione e come si vanno a riconoscere in R3 quando dico cilindro è una è un qualcosa che non dipende da una coordinata quindi non c'è solo il cilindro circolare retto ci stanno per esempio i cilindri con una sezione insieme a qualunque e poi ci sono i soliti di rotazione come si fanno a riconoscere i soliti di rotazione e poi vediamo cosa dicono i terreni di guldino che collegano l'area e il volume del solito di rotazione al diciamo alle lunghe diciamo alle coordinate certi vari centri e poi poi via è abbastanza facile grazie